Parla tifoso dell'Azzurra. Siamo tornati con le ultime novità dal nostro amato club. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di mettere mi piace al video, condividerlo con tutti e iscriverti per non perdere nulla. E così chi. Oggi abbiamo un aggiornamento esclusivo su Neu Mperez, il talentuoso difensore che sta per cambiare le cose. Neu Mperez è stato in azione contro l'Atalanta a Bergamo, segnando forse la sua ultima partita con la maglia dell'Udinese. L'aspettativa è che, a partire da domani, il difensore argentino torni a finalizzare le trattative per il suo trasferimento al Napoli durante questa finestra invernale. Le trattative sono a buon punto. Entro martedì l'operazione dovrebbe essere ufficializzata, comprese le visite mediche e la tanto attesa firma del contratto. Il Napoli ha voglia di avere Mperez il prima possibile, puntando a averlo a disposizione per la prossima partita contro il Verona. Il consiglio direttivo del club sta lavorando instancabilmente dietro le quinte per garantire una transizione fluida e integrare rapidamente il giocatore nello schema tattico di coach Mazzarri. Il passaggio al Napoli rappresenta non solo una transizione di club per Neu Mperez, ma anche un'opportunità per alzare l'asticella della sua carriera e contribuire alle sfide che attendono il Napoli in questa stagione. I tifosi napoletani non vedono l'ora di vedere questo rinforzo in azione. Tifosi azzurri, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sull'arrivo di Neu Mperez al Napoli. Lasciate nei commenti le vostre aspettative per il suo debutto nella squadra azzurra. Metti mi piace al video, condividilo con gli amici e iscriviti per non perdere nessun dettaglio di questo entusiasmante trasferimento. Presto avremo altre notizie dal nostro Napoli. Forza Napoli sempre!